Allora, nel frattempo che si connettono le ultime persone, do le solite informazioni di servizio. Come ci dice Chiara Gabriele, è l'ultimo incontro, siamo arrivati al termine di questo ciclo. Immagino che praticamente tutti i partecipanti di oggi abbiano assistito ad almeno uno dei precedenti nove incontri, quindi mi limito a ricordare semplicemente che questo webinar è stato organizzato da Avvocato di Strada, che è un'organizzazione di volontariato che si occupa di fornire assistenza legale gratuita alle persone senza dimora. Ci troviamo in 55 città italiane, potete controllare quali sedi abbiamo aperto sul nostro sito, nel caso in cui aveste piacere a unirvi come volontari, o eventualmente potete anche pensare di aprire un nuovo sportello, una nuova sede nella città dove siete, se ancora Avvocato di Strada non è arrivato. Avrete visto in tutti questi incontri che questo ciclo di incontri era gratuito, così come anche la condivisione del materiale realizzato dai volontari. In ogni caso, se chi avesse piacere a sostenere l'associazione lo può fare effettuando una donazione to cure, oppure acquistando i gadget solidali dal nostro shop, tutte operazioni che si possono tranquillamente eseguire dal nostro sito. Per quanto riguarda le informazioni tecniche che sicuramente vi interessano, purtroppo ancora non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale dal Consiglio nazionale forense, quindi il corso non è stato ancora accreditato. Però i tempi sono questi, ci vogliono anche 3-4 mesi per ottenere l'accreditamento, quindi confidiamo prima o poi di avere una risposta e nel caso ovviamente gli avvocati e i praticanti abilitati che pure hanno bisogno dei crediti formativi verranno prontamente informati. Per quanto riguarda invece tutti gli altri, come abbiamo ricordato di settimana in settimana, per l'attestato di partecipazione è necessario presentare un'esplicita richiesta via mail che potete inviare al mio indirizzo, francesca Chiarelli, chiocciolaavvocatodistrada.it che ritrovate visto che vi ho inviato man mano il materiale, oppure anche su bologna, chiocciola, avvocatodistrada.it. Vi dico fin da subito che appunto essendo un'organizzazione di volontariato anche il rilascio degli attestati non sarà immediato, lasciateci un attimo il tempo di organizzarci. Come saprete, perché appunto avete partecipato agli scorsi incontri, è normale che abbiate le telecamere spente e i microfoni disattivati. Se avete qualcosa da chiedere alla relatrice è possibile scriverlo in chat, vedremo compatibilmente con i tempi di rispondervi. E ora lascio la parola all'avvocato Agostina Stano, che chi c'era due incontri fa già conosciuto, che oggi ci parlerà dei rimedi esperibili in caso di rigetto, di niego, di un permesso di soggiorno. Grazie Francesca, mi sentite bene? Prima di tutto vorrei ringraziare te, Agnese e Alessandra per come siete riuscite a organizzare questo ciclo di incontri in veramente pochissimo tempo e soprattutto per la pazienza che avete avuto con noi, relatoria, in seguirci per tutta Italia per organizzare il tutto. Detto questo, come vi ho anticipato Francesca, oggi concluderemo questo ciclo di incontri con un focus sulle impugnazioni. Infatti dal titolo del webinar Impugnazioni e altri rimedi, che fa un po' su falsariga di un film Amore e altri rimedi, andremo un attimo a vedere cosa si può fare davanti a particolari provvedimenti, quale può essere un decreto di espulsione, un rigetto di un'istanza di rilascio, di rinnovo del permesso di soggiorno o ancora il diniego da parte della Commissione territoriale alla richiesta di protezione internazionale o sussidiaria. condivido lo schermo, sperando di riuscirci. Lo vediamo? Sì, ok. Allora, premetto che tutto quello che vi dirà oggi si basa in particolar modo su quanto accade a Milano, quindi giudice di pace di Milano, tribunale di Milano, TAR di Milano, perché essendo scritta al Foro di Milano, però principalmente su questo territorio, ovviamente le prassi interne e soprattutto anche le tempistiche di risposta dei giudici alle impugnazioni variano da tribunale a tribunale. Sicuramente, soprattutto per chi è avvocato, comunque operatore in contesti in cui circolano cittadini stranieri, vi sarete sentiti fare una di queste domande. Quindi, cosa faccio se mi arriva un decreto di espulsione? O ancora, cosa faccio se mi viene notificato un provvedimento alla mia richiesta di permesso di soggiorno? O ancora, mi hanno rigettato l'istanza di rinnovo della protezione speciale, o quella che almeno era una volta la protezione umanitaria? Domande a cui dobbiamo riuscire a dare risposte il più comprensibili possibili, anche perché spesso e volentieri ci troviamo davanti a cittadini, a ragazzi, spesso anche molto giovani, che hanno anche l'ostacolo magari della lingua italiana non parlato e non compresa benissimo. Partirei dal caso, forse fra i più comuni, che è quello dell'espulsione prefettizia. L'espulsione prefettizia è una delle due tipologie di espulsione amministrativa che è prevista dal testo unico dell'immigrazione, perché abbiamo anche l'espulsione amministrativa decretata direttamente dal Ministero dell'Interno in caso di soggetti che vengono considerati pericolosi per la sicurezza o per l'ordine pubblico. Invece il caso più comune è l'espulsione amministrativa prefettizia che viene decretata dal prefetto quando il cittadino straniero si trova sul territorio italiano perché, ad esempio, è privo del permesso di soggiorno, oppure è un cittadino straniero che si è sottratto ai controlli di frontiera o ancora ha subito la revoca oppure l'annullamento o il rigetto del permesso di soggiorno e non ha proposto impugnazione oppure ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno oltre i 60 giorni dalla scadenza o ancora quei casi in cui arriva un decreto di espulsione perché il soggetto viene considerato socialmente pericoloso. Non viene notificato immediatamente il decreto del prefetto ma il decreto del prefetto viene anticipato dal cosiddetto foglio di via. Il foglio di via è l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni. Non viene notificato sempre. Il foglio di via, infatti, viene notificato se si tratta della prima espulsione quindi non ci troviamo in casi in cui il cittadino straniero ha ricevuto anche una o più due espulsioni precedenti che si vanno un po' a incatenare una dietro l'altra e ha un documento di identità valido che può essere o il passaporto o l'attestato consolare di nazionalità che è praticamente quella certificazione che rilascia il consolato con su anche la foto in cui sono inseriti tutti i dati anagrafici del cittadino e in cui si attestano le sue generalità come fosse un normalissimo documento di identità e infatti rappresenta uno dei documenti equipollenti al passaporto e inoltre nel caso in cui la questura vada ad indagare e a verificare che il cittadino straniero che ha ricevuto o che deve ricevere il foglio di via ha un buon inserimento sociale, familiare o lavorativo. Se il cittadino straniero che ha ricevuto il foglio di via non adempie a questa intimazione questo invito a lasciare l'Italia entro i 15 giorni arriva perché non va avanti Francesca? Non so perché ok era il mio problema del computer successivamente dicevamo se non adempie all'andar via entro 15 giorni verrà notificato il decreto di espulsione perché faccio un passo indietro nel foglio di via viene anche scritto se non lascio il territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica verrà avviato il procedimento finalizzato all'espulsione al cittadino straniero destinatario del decreto di espulsione del prefetto devono essere comunque concessi dai 7 ai 30 giorni per poter far volontariamente ritorno nel proprio paese d'origine successivamente alla notifica il cittadino straniero ha la possibilità di impugnare entro 30 giorni dalla notifica stessa il decreto di espulsione e lo può fare davanti al giudice di pace competente per territorio nella peggiore delle ipotesi in cui l'espulsione dovesse essere convalidata dal giudice di pace questa comporta il divieto di rientrare in Italia per un periodo compreso fra i 3 e i 5 anni se dovessero sussistere particolari e gravissime ragioni che portano il cittadino straniero espulso a voler rientrare in Italia prima dei 5 e dei 3 anni può essere fatto chiedendo però una particolare autorizzazione al ministero dell'interno cosa succede una volta che presentiamo il ricorso davanti al giudice di pace il ricorso davanti al giudice di pace non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento espulsivo ma bisogna chiedere contestualmente alla presentazione del ricorso anche la sospensione del provvedimento impugnato su cui il giudice di pace andrà a pronunciarsi di solito in via preliminare inoltre e sul punto ormai la giurisprudenza si dimostra abbastanza cristallina se riceve un decreto di espulsione un cittadino straniero che al contempo anche richiedente asilo vi è quindi pendente una domanda di protezione internazionale o davanti la commissione territoriale perché deve essere ancora sentita un'audizione o siamo già in fase giudiziale davanti al tribunale ciò fa sì che il giudice di pace sospenda in modo automatico l'efficacia del provvedimento di espulsione a me ad esempio è successo con un ragazzo che seguo con l'associazione lui era addirittura un caso ancora più particolare perché era la sua seconda domanda di protezione internazionale era una domanda reiterata è stato fatto ricorso e ancora in corso di causa gli viene notificato un decreto di espulsione il giudice di pace ha sospeso in maniera totalmente automatica l'efficacia del provvedimento espulsivo proprio in attesa che si veda un attimo l'esito della domanda di protezione internazionale reiterata per ora ancora pendente davanti al tribunale per quanto riguarda le modalità di deposito del ricorso al giudice di pace queste variano da ufficio a ufficio ovviamente in periodo no covid a Milano si va in cancelleria della sezione immigrazione si compila tutto il fascicolo inserendo dentro ricorso documenti procura ed eventuale richiesta di ammissione alla patrocinia spese dello Stato e si iscrive al ruolo periodo covid noi qui a Milano depositiamo a mezzo PEC sarà poi onere della cancelleria a formare tutto il fascicolo altrimenti è sempre valido il deposito a mezzo raccomandata e fa fede il timbro di invio sulla sulla busta iscrivere al ruolo il ricorso al giudice di pace non ha alcun tipo di costo non servono contributi unificati non serve marca d'abbollo ci sono però dei casi in cui c'è il divieto di espulsione quindi non può essere notificato alcun provvedimento espulsivo infatti il nostro testo unico dell'immigrazione dice che è vietata l'espulsione dello straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione oppure non venga protetto da tutte quelle persecuzioni che possono avvenire per motivi di sesso razza religione lingua opinione politiche condizioni personali e sociali inoltre è vietata l'espulsione dei cittadini stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato o che hanno ottenuto l'ammissione alla protezione sussidiaria non sono espellibili i titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo non sono espellibili conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiani non sono espellibili minori stranieri non accompagnati e non sono espellibili le donne in gravidanza e fino al sesto mese di età del bambino passiamo ora al secondo caso che si può verificare ossia ci arriva un cittadino straniero con in mano un provvedimento del questore in cui dice che la sua istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è stata rigettata dalla questura piccolo passetto indietro non arriva non viene notificato immediatamente il decreto di rigetto in teoria per legge dovrebbe essere notificato prima un altro provvedimento che è il cosiddetto preavviso di rigetto con cui la questura va a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell'istanza in questo provvedimento però la questura dice attenzione ti do però un certo periodo di tempo che possono andare dai 10 ai 20 giorni affinché tu possa eventualmente integrare la domanda di rilascio di rinnovo del permesso che hai presentato con altri documenti se l'interessato fa questa integrazione bene a me è capitato che spesso e volentieri un'integrazione documentale cambiasse totalmente e diciamo salvasse un attimo la persona perché veniva rilasciato nonostante il preavviso di rigetto veniva rilasciato il permesso di soggiorno perché effettivamente la questura valutava positivamente quell'integrazione documentale se ciò non avviene o la questura ritiene non sufficiente questa integrazione documentale viene emanato e poi notificato il rigetto da parte della questura cosa si fa davanti a un provvedimento di rigetto ovviamente si fa ricorso a chi posso presentare il ricorso davanti ad un rigetto da parte della questura posso presentarlo in via gerarchica al prefetto posso presentarlo al tribunale amministrativo regionale inoltre al tribunale amministrativo regionale posso anche presentare ricorso contro un eventuale rigetto anche da parte del prefetto questo step è per determinati permessi di soggiorno ossia permesso di soggiorno per motivi di lavoro permesso di soggiorno per studio permesso di soggiorno di lungo periodo e via dicendo se invece ci arriva un cittadino che ha ricevuto il rigetto di rinnovo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari il ricorso non andrò a presentarlo alla tar o al prefetto ma in questo caso lo andrò a presentare al tribunale ordinario perché dopo vari conflitti si è pronunciata finalmente la Cassazione dicendo che per quanto riguarda i permessi di soggiorno per motivi familiari la giurisdizione competente è la giurisdizione del giudice ordinario quindi presenteremo il ricorso contro il rigetto relativo al permesso di soggiorno per motivi familiari alla sezione migrazione del tribunale ordinario competente per territorio entro quando posso presentare questo ricorso il termine sarà di 30 giorni sempre dalla notifica del provvedimento per il ricorso al prefetto in via gerarchica contro il quale se vi è rigetto da parte del prefetto si potrà fare ulteriormente ricorso al tar il termine poi è di 60 giorni sempre dalla notifica del provvedimento per il ricorso al tar sia che si presenti direttamente al tar saltando il ricorso gerarchico al prefetto perché non è obbligatorio uno può decidere tranquillamente di fare direttamente al ricorso al tar resta di 60 giorni anche se vogliamo impugnare il provvedimento prefettizio che ha rigettato a sua volta il nostro ricorso il termine invece è di 30 giorni per la presentazione dei ricorsi davanti al tribunale ordinario modalità di presentazione del ricorso se si tratta di un ricorso al prefetto questo possiamo inviarlo o con raccomandata con ricevuta di ritorno o depositandolo a mezzo PEC Milano non prende ricorsi materiali sia in periodo no covid che maggiormente ora in periodo covid il ricorso al tar avviene utilizzando il portale del processo amministrativo telematico credo che ogni tar si regoli un po' in modo suo Milano ad esempio accette le iscrizioni a ruolo cartacee il tar lombardia accette iscrizioni a ruolo cartacee solo veramente in casi eccezionalissimi mentre il ricorso al tribunale ordinario si deposita ovviamente con PCT però il primo atto introduttivo farlo sempre su Milano è ancora possibile poterlo iscrivere a ruolo cartaceamente allo sportello delle iscrizioni a ruolo però solo il primo atto poi successivamente tutto dovrà avvenire in maniera telematica ovviamente fare ricorso a differenza di ciò che accade con i ricorsi al giudice di pace ha un costo per quanto riguarda il ricorso al prefetto questo è abbastanza arrisorio dovendo semplicemente apporre una marca da bollo da 16 euro e se si invia il ricorso con raccomandata il costo di raccomandata che ovviamente si viene ad annullare se il deposito avviene a mezzo tec per quanto riguarda il ricorso al tar qui abbiamo un contributo unificato di 300 euro che ovviamente non pagherà la persona che viene ammessa al patrocino a spese dello Stato mentre per ricorso al tribunale e parliamo qui perché poi per altri tipi di ricorso è diverso parliamo dei permessi di soggiorno per motivi familiari il costo è soltanto quello della marca da bollo da 27 euro si scrive il ricorso si fa il ricorso ovviamente è sempre utile allegare e produrre della documentazione che vada a comprovare a confermare a sostenere le motivazioni che noi scriviamo nel nostro ricorso documentazione che ad esempio vada a dimostrare dove abita il nostro ricorrente se è ospite di qualcuno se ha una casa in affitto se vive con determinate persone se si tratta ad esempio di un permesso di soggiorno per motivi di studio allegare quanta più documentazione possibile che vada a provare ad esempio l'iscrizione all'università gli esami sostenuti il regolare pagamento delle tasse o se si tratta di un permesso di soggiorno per motivi di tirocinio o di dottorato andare a inserire tutta la certificazione dell'università che attesta che quella persona è iscritta come staggista o come dottorando presso una determinata università se si parla invece di un permesso di soggiorno per motivi familiari ovviamente tutta la documentazione che riguarda anche qui la situazione abitativa alloggiativa ma anche soprattutto tutta la documentazione che riguarda i rapporti familiari lo stato di famiglia eventuale certificato di matrimonio se serve bisognerà anche legalizzarli tradurli eccetera quindi tutto ciò che è utile a provare e a dimostrare anche e soprattutto l'integrazione del nostro assistito sul territorio italiano quindi tutto ciò che possa andare a convincere il giudice che quella persona ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno o a vedersi rinnovato il permesso di soggiorno ad esempio mi viene in mente un caso che ho seguito personalmente riguardante il permesso di soggiorno per motivi di studio di un ragazzo camerunense lui aveva fatto un po' di pasticci aveva chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro perché sperava che nel frattempo con la laurea triennale in tasca riuscisse a trovare lavoro questo non è successo lui ha deciso però di iscriversi di nuovo all'università e prendere la specialistica perché non aveva trovato lavoro nell'emore di tutto questo la questura rigetta la sua richiesta di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro perché non vi erano i requisiti per poterlo fare lo impugniamo prima al prefetto il prefetto rigetta impugniamo al TAR nel frattempo questo ragazzo aveva fatto anche dei debiti con l'università perché non era riuscito a finire di pagare le tasse dimostriamo con il ricorso che lui sta continuando a studiare che è comunque una media altissima perché ha gli esami il voto più basso che questo ragazzo prendeva era 29 che nel frattempo grazie anche all'aiuto di una condazione privata era riuscito a saldare il debito con il Politecnico di Milano facciamo l'udienza il TAR ci accoglie in primis la sospensione cadolare del provvedimento viene fissata l'udienza di merito produciamo altra integrazione documentale addirittura in questo caso è stata la stessa questura a dire è vero abbiamo sbagliato annulliamo in autotutela il nostro provvedimento e adesso il nostro caro Giorgio ha in tasca un permesso di soggiorno finalmente per attesa occupazione e ho ricevuto anche la notizia in questi giorni che ha anche trovato lavoro cosa succede dopo la nostra presentazione del ricorso se facciamo il ricorso al prefetto caso rarissimo a me è successo una sola volta il prefetto può decidere di sentire la parte ricorrente all'esito dell'audizione o senza l'audizione sulla base degli allegati al ricorso il prefetto decide decide o di accogliere o di rigettare il ricorso se il ricorso viene accolto siamo tutti felici ci andiamo a prendere il nostro permesso di soggiorno se il ricorso al prefetto viene rigettato abbiamo un altro step da poter percorrere che è quello del ricorso al TAR cosa succede quando depositiamo un ricorso al TAR di solito la trafila che viene un po' seguita è questa si ha l'assegnazione del ricorso che è stato scritto il ruolo alla sezione competente viene fissata l'udienza cautelare in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato che deve essere sempre inserita insieme al ricorso che noi andiamo a iscrivere al ruolo il TAR il collegio si potrà pronunciare lo fa sempre con ordinanza o sull'accoglimento o sul rigetto dell'istanza cautelare se decide di accogliere l'istanza cautelare potrà chiedere anche alla questura di andare a riesaminare la pratica e la situazione successivamente viene fissata l'udienza del merito in pubblica udienza e a seguito dell'udienza di merito che potrà anche essere preceduta a seconda dei casi da integrazioni documentali o richieste da parte del collegio il TAR emanerà il provvedimento finale con sentenza che sarà di accoglimento o di rigetto del nostro ricorso se invece abbiamo il nostro rigetto di permesso di soggiorno per motivi familiari e quindi abbiamo presentato il ricorso al tribunale ordinario anche qui la via da seguire è sempre più o meno la stessa abbiamo l'iscrizione al ruolo una volta iscritto al ruolo siccome il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento impugnato cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a depositare un'istanza di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato questa istanza andrà depositata direttamente nel fascicolo telematico del nostro ricorso successivamente la cancelleria provvederà provvederà ad assegnare prima alla sezione specializzata e poi al giudice sia il nostro fascicolo cautelare che il nostro fascicolo di merito viene fissata successivamente l'udienza di comparizione delle parti a seguito della quale il tribunale si pronuncerà sulla sospensiva a Milano ogni tanto succede che qualche giudice si pronunci sulla sospensiva ancora prima di fissare udienza quando magari ha capito che non è necessario andare a fare udienza per decidere sulla sospensiva altrimenti di regola l'udienza viene fissata dopo qualche giorno di regola il giudice si pronuncia con ordinanza sull'accoglimento o sul rigetto della nostra istanza di sospensione del provvedimento impugnato e successivamente all'ordinanza che si pronuncia sulla sospensiva viene fissata l'udienza nel merito per la discussione a seconda della tipologia di ricorso perché poi le regole base sono queste ma ogni ricorso prende per forza di cose un po' una via diversa a seconda del caso pratico e di tutta la storia personale del ricorrente accade che il giudice possa anche decidere di sentire il ricorrente e sarà pertanto necessario magari un'udienza in più passiamo a un'altra tipologia di rigetto che è quello del rigetto al rinnovo della protezione speciale ex-umanitaria quindi post decreto sicurezza cosa succede tutti coloro che avevano il vecchio permesso di soggiorno per motivi umanitari a cavallo fra le riforme si sono visti arrivare il rigetto del rinnovo dell'umanitario in protezione speciale questo rigetto viene notificato dalla questura che si pronuncia con il rigetto sul parere negativo della commissione territoriale perché perché quando si tratta di rinnovare di concedere o meno il rinnovo della protezione ex-umanitaria in speciale la questura deve interpellare la commissione territoriale che valuterà se ci sono tutti i presupposti per il rinnovo di tale tipo di protezione se la commissione territoriale emette un parere negativo la questura andrà a rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno contro questo rigetto si può fare ricorso sempre entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento anche qui il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento impugnato ma dovrà essere chiesta la sospensione provvisoria del decreto di rigetto il ricorso contro questo tipo di rigetto lo presentiamo sempre al tribunale ordinario alla sezione specializzata in migrazione ha un costo un po' altino in quanto qui parliamo di 98 euro per il contributo unificato e di 27 euro per la marca d'aboglio dei diritti di cancelleria che ovviamente non andrà a pagare la persona che viene ammessa al patrocinio a spese dello Stato in questo particolare tipo di ricorso è sempre utile andare a produrre ad allegare ancor più dei ricorsi precedenti soprattutto perché spesso si tratta di situazioni di casi molto particolari e delicati tutti quei documenti che devono convincere il giudice che il nostro assistito la nostra assistita ha diritto ad avere ancora quella protezione sul territorio italiano anche qui tutta la documentazione che va a comprovare la situazione abitativa e loggiativa soprattutto se si tratta di persone che sono ospiti di centri di accoglienza case d'accoglienza o che frequentano dormitori o centri diurni in modo tutto ciò che dimostri dove quella persona materialmente va a dormire va a mangiare i legami col territorio proprio in termini fisici documentazione medico-sanitaria in tutti quei casi in cui ad esempio il vecchio permesso di soggiorno per motivi umanitari era stato rilasciato per condizioni mediche gravi e delicate e se queste condizioni mediche continuano ad esserci è sempre bene rappresentare al giudice tutta la documentazione medico-sanitaria che va a provare la sussistenza ancora di queste ragioni sanitarie ad esempio io seguo un ragazzo che ha avuto in passato il vecchio umanitario per motivi di saluto in quanto è fortemente dialitico e a vita dovrà fare la dialisi tre volte alla settimana e la commissione territoriale aveva deciso che non c'erano più i presupposti affinché lui ricevesse ancora la protezione umanitaria parliamo di un ragazzo senegalese le sue condizioni di salute però sono anzi peggiorate nel corso del tempo siamo ormai arrivati alla fine stiamo aspettando il provvedimento finale del tribunale il giudice però all'ultima udienza ha palesemente fatto capire che concederà l'accoglimento del ricorso proprio sulla base delle condizioni di salute di questa persona dovrà essere allegato perché spesso e volentieri il giudice lo chiede a Milano lo chiedono sempre il provvedimento della commissione territoriale o il provvedimento del tribunale che riguarda il primo rilascio della protezione il verbale della vecchia audizione in commissione territoriale questo lo chiedono spesso per velocizzare le cose per non dover risentire la persona anche se in casi particolari delicati il giudice può decidere di sentire il ricorrente nonostante agli atti vi sia il verbale di audizione e ovviamente tutta quella documentazione che riguarda il lavoro attestazioni della conoscenza linguistica perché magari hanno fatto i corsi di italiano attestazioni di frequenza scolastica perché ci sono molti stranieri soprattutto quelli più giovani che iniziano un percorso scolastico per prendere il diploma ad esempio di licenza media tutta quella documentazione che riguarda borse lavoro piuttosto che tirocini se sono seguiti da servizi sociali è sempre bene allegare relazioni socioeducative se si tratta di persone con problematiche psichiatriche o psicologiche è sempre bene anche allegare relazioni dei servizi di etnopsichiatria o di psicologia che li hanno in cura eccetera altra cosa ovviamente andare a verificare e poi riportarne le fonti che possono essere o la giurisprudenza pregressa su casi simili o il report di associazioni che può essere amnesty o NHCR che vada a provare che in realtà le ragioni affinché la persona il richiedente debba riottenere ancora la protezione sussistono e come cosa succede nell'emore di questo ricorso abbiamo detto prima che non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato quindi dobbiamo presentare l'istanza di sospensione provvisoria del provvedimento su cui il tribunale si pronuncerà in via cautelare l'ordinanza di sospensione consente di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo Milano ad esempio è ormai un annetto che con una sospensiva in mano ti rilascia un permesso di soggiorno cartaceo quindi il foglio giallo per capirci con dicitura protezione speciale inoltre la sospensiva consente di poter lavorare nell'emore del ricorso e qui è capitato che alcuni giudici milanesi lo specificassero proprio nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza sospensiva che il cittadino straniero con quell'ordinanza può lavorare ultimo ricorso provvedimento che potremmo trovarci ad impugnare è senza dubbio il diniego da parte della commissione territoriale alla richiesta di protezione internazionale o sussidiaria non vi sto a parlare di come avviene tutta la procedura della richiesta di protezione internazionale perché ve ne hanno parlato benissimo i miei bravissimi colleghi negli incontri iniziali arriviamo al punto dolente arriviamo al giorno in cui la commissione territoriale ci notifica questo benedetto diniego alla richiesta di riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria cosa possiamo fare possiamo fare ovviamente ricorso al tribunale ordinario sezione specializzata emigrazione vedremo poi come si verifica la competenza su quale tribunale è competente o meno rispetto al ricorso il ricorso lo facciamo entro 30 giorni dalla notifica del diniego se il richiedente in Italia entro 60 giorni se il richiedente si trova all'estero questi 30 giorni si dimezzano e diventano 15 se la commissione ha dichiarato la domanda manifestamente infondata se si tratta di una domanda di protezione reiterata quindi non è la prima richiesta di protezione internazionale che il nostro richiedente presenta oppure se c'è un provvedimento di trattenimento in CPR il tribunale competente per la presentazione la decisione del ricorso è il tribunale della circoscrizione dove si trova la commissione territoriale che ha emanato il provvedimento se invece il ricorrente si trova trattenuto in un CPR in un SAI che è il nuovo sistema di accoglienza integrazione o si trova in una struttura di accoglienza governativa il ricorso va depositato nel tribunale del luogo dove si trova il CPR il SAI o la struttura di accoglienza anche qui il costo è come quello precedente 98 euro di contributo unificato 27 euro di marca da bollo non devono pagarlo li ha messi al patrocinio a spese dello Stato cosa succede dopo la presentazione del nostro ricorso contro il diniego della commissione il procedimento che prende avvio dal nostro ricorso è un procedimento camerale che viene si svolge tutto in udienza non pubblica il presidente nomina un giudice struttore che poi andrà a relazionare alla fine al collegio che dovrà prendere la decisione durante il corso del procedimento il giudice può decidere di assumere tutte le informazioni che riterrà necessarie al fine della relazione al collegio il ricorso in questo caso a differenza dei precedenti sospende l'efficacia del provvedimento impugnato tranne che in due casi quando il ricorrente è trattenuto in CPR e quando la domanda di protezione era stata dichiarata a suo tempo dalla commissione inammissibile o manifestamente infondata in questi casi bisognerà chiedere con apposita estanza la sospensione del provvedimento impugnato a questo punto una volta andato avanti il procedimento una volta che il giudice struttore avrà relazionato al collegio il collegio potrà decidere o di accogliere il ricorso o di rigettare il ricorso in caso di accoglimento del ricorso bene in caso di rigetto del ricorso le cose sono un po' cambiate perché dopo la riforma Orlando Minniti che è avvenuta nel 2017 non è più previsto il secondo grado di giudizio quindi il decreto emanato dal collegio non potrà essere più reclamato o appellato davanti alla corte d'appello ma si potrà soltanto ricorrere in corte di cassazione il ricorso davanti alla corte di cassazione dovrà essere sempre proposto dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di primo grado non sospende l'efficacia del decreto di non accoglimento emanato dal tribunale entro 5 giorni quindi dall'introduzione del giudizio del giudizio in cassazione si dovrà presentare una specifica istanza di sospensione al giudice che ha deciso in primo grado quindi al tribunale entro altri 5 giorni il giudice se rileva la sussistenza di fondati motivi sospenderà l'efficacia del provvedimento impugnato se alla fine di tutto la corte di cassazione dovesse ritenere di rigettare il ricorso in via non decadenziale dovrà decidere entro 6 mesi per quanto riguarda invece la decisione da parte del tribunale questa in teoria dovrebbe avvenire entro 4 mesi dico in teoria perché ovviamente è un termine che non viene mai rispettato io qui ho pendenti ricorsi scritti a fine 2017 che devono essere ancora decisi e io avrei finito bene interrompo la condivisione ok allora c'erano state due domande in DR che le guardo subito allora si può chiedere la sospensiva nel caso di un cittadino straniero con PDS provvisorio per richiesta asilo scaduto in fase di ricorso di cassazione ma la sospensiva però non può riguardare la cioè permesso di richiesta asilo è un permesso temporaneo quindi la sospensiva come abbiamo visto in cassazione deve essere chiesta a monte entro cinque giorni dall'introduzione del giudizio in cassazione decreto del TM di revoca del proseguo amministrativo può essere reclamato al pari degli altri decreti del TM al tribunale ordinario nel termine di dieci giorni allora io non mi occupo nello specifico di minori di minori però se non sbaglio il termine è sempre di dieci giorni però se c'è qualche collega che nello specifico fa minori e mi vuole correggere è ben accetto quindi perché non vorrei dire cosa sbagliate le altre sono in chat allora no aspetta la domanda ti è stata fatta ora in chat ok le ho segnate altre non so se la vedi l'ultima oddio aspetta l'ultima ultima sì l'istanza oddio aspetta entro dieci giorni in corto d'appello grazie Marianna prima c'era la domanda l'istanza di sospensione nell'ipotesi da ricorsa in cassazione può essere ripresentata se nel frattempo è stato notificato il decreto di espulsione e però il decreto di espulsione se c'è ancora pendente il il giudizio per la protezione internazionale viene sospeso già a monte io ti leggo una domanda che era stata fatta prima te le leggo esattamente con me ma sono su se vuoi te le leggo io ok vai vai era vorrei sapere se nel caso di convalida del provvedimento di espulsione bisogna impugnare quest'ultimo oppure il decreto di espulsione va fatto il provvedimento del giudice di pace che convalida l'espulsione può essere impugnato però con ricorso in cassazione ok poi aspetta te la copio in chat che mi sa che è più facile per te se la leggi rispetto a che se te la leggo io aspetta te l'ho inviata e copiata da prima se si è verificato il caso in cui il giudizio davanti al tribunale o la cassazione per richiesta sì non sospeto sospeso il gdp ha sospeso con un po' il giudizio no no il giudice di pace sospende in ogni caso l'efficacia del decreto di espulsione se non mi pare di capire che fosse questa la richiesta ok te lo posso confermare perché nel mio caso non c'era stata la sospensiva ma il giudice di pace ha comunque sospeso l'efficacia del decreto di espulsione allora in DR ti hanno appena fatto un'altra domanda e poi in realtà non ce ne sono più ok nel caso di ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso per motivi umanitari deve essere rivolto solo alla questura oppure anche alla commissione territoriale che ha proceduto al parere allora il parere della commissione come dice la questura è un atto amministrativo non dovuto nel senso non si può impugnare direttamente il parere della commissione io personalmente nel ricorso cito sia la questura sia la commissione e ovviamente poi si costituisce unicamente il ministero per questura e per commissione ovviamente ricomparso un'ultima domanda e poi dopo questa davvero ti liberiamo sotto una persona che ha fatto ricorso contro Dublino mentre aspettava l'esito viene trasferito a Roma questura di Roma rilasciato PDS per sei mesi quindi parliamo di un temporaneo e quando scaduto la questura non vuole rinnovare dicendo che la competenza è di Trieste alla fine il tribunale di Trieste ha rigettato la domanda aspetta mi sono persa fra le varie città allora questura di Roma rilascia PDS temporaneo immagine in pendenza di ricorso Dublino mi pare di capire quando scade la questura non vuole rinnovare dicendo che la competenza è di Trieste ma perché su cosa fonda questa cosa perché la persona vive a Trieste ora lui è a Roma e l'avvocato suo ha detto che non può fare nulla bisognerebbe un attimo capire tutti i passaggi che sono stati fatti anche perché per quanto riguarda i ricorsi Dublino è un po' più complicata la faccenda va bene allora direi che siamo giunti veramente alla fine fine di questo corso alla fine finissima ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi per tutti i dieci incontri ma anche quelli che sono stati un po' più altalenanti grazie per tutti i complimenti che ci avete fatto il ringraziamento specialmente da me Alessandra e Agnese che siamo state dietro all'organizzazione di questo webinar insieme poi vabbè a tutto lo staff di avvocato di strada ed è andato benissimo e ci risentiamo per attestati crediti formativi e eventualmente per un prossimo webinar non si sa mai e buona serata a tutti e alla prossima ciao ciao ciao